Le volanti della Polizia del Commissario di Vittoria controllano da giorni con particolare intensità tutto il territorio di Parì, inoltre al litorale, composti di blocchi e perquisizioni nei confronti di persone sospette e l'impiego massiccio di pattuglia consentita in queste ore di controllare centinaia di persone e decine di veicoli, assicurando così il rispetto delle regole, l'ordine e la sicurezza pubblica. Durante questa attività, stamani in Piano Cento, gli agenti hanno notato due giovani con fare sospetto per cui sono intervenuti per identificarli. Erano entrambi incensurati, ma la perquisizione alla quale sono stati sottoposti ha permesso di rinvenire ben 18 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana, contenuta in un sacchetto di cellofan e pronta per essere suddivisa in dosi e smerciata. I due sono stati quindi condotti in commissariate e dopo le foto segnalazioni, il possessore dello stupefacente, un 18enne, è stato denunciato alla procura per detenzione ai fini dispaccio di marijuana.